autostrade confermato stop a cantieri per pasqua euroflora da domani mercoledì 13 aprile fino al lunedì 9 maggio confermata anche la rimozione dei cantieri sulla 12 tra genova e sesto rilevante per quanto riguarda le altre tratte sempre sulla 12 tra sesto rilevante e la spezia di competenza di salt è prevista la rimozione dei cantieri da giovedì 14 aprile fino a mezzogiorno di lunedì 2 maggio nella riunione di oggi aspi ci ha confermato dal pomeriggio di domani mercoledì 13 aprile fino alle 12 di lunedì 9 maggio la rimozione dei cantieri su tutta la tratta di competenza si tratta di una misura indispensabile in vista delle festività pasquale dalla prossima edizione di euroflora che richiameranno speriamo migliaia di turisti a genova e nelle riviere così l'assessore nelle infrastrutture di regione liguria giacomo giampedrone al termine della riunione odiena del tavolo tecnico di confronto con i rappresentanti di aspi in realtà aggiunge giampedrone le concessionarie hanno già provveduto fin da questa settimana ad un alleggerimento delle lavorazioni chiesto da regione liguria e dalle categorie economico produttive per ridurre i disagi che si erano verificati confermata la rimozione dei cantieri sulla 12 tra genova e sesto elevante per quanto riguarda le altre tratte sempre sulla 12 tra sesto elevante e la spezia competenza salt è prevista la rimozione dei cantieri da giovedì 14 aprile fino alle 12 di lunedì 2 maggio concluso il periodo pasquale dal fine settimana del 14 15 maggio e per tutti i weekend successivi conclude giampedrone inizierà il piano estivo con lo smontaggio dei cantieri dalle ore 14 del venerdì fino alle 12 del lunedì seguente applicato in modo sostanzialmente omogeneo da tutti i concessionari nuova ordinanza di anas relativa al cantiere di sistemazione del tunnel delle feriere lungo la 225 della fontana buona viene istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari con senso unico alternato regolato da semaforo divieto di sorpasso su tutte le corsie dalle sedi giovedì 14 aprile fino alle sedi mercoledì 27 aprile la regolamentazione del transito avverrà nei giorni feriali secondo le seguenti modalità dalle 6 alle 13 15 galleria aperta ad una corsia in direzione genova transito per chiavari deviato sulla provinciale 77 dalle 13 15 alle 20 e 05 apertura ad una corsia in direzione chiavari transito verso genova deviato sulla provinciale 77 dalle 20 e 05 alle 6 la galleria è chiusa in entrambi i sensi di marcia il percorso alternativo alla provinciale 77 durante i festivi dalle 6 alle 12 50 la galleria taviani è aperta ad una corsia in direzione chiavari e il transito per genova è deviato sulla provinciale 77 dalle 12 50 alle 20 aperta una corsia verso genova mentre per chiavari si deve deviare sulla provinciale 77 dalle 20 alle 6 chiusura di entrambi sensi di sensi di marcia con percorso alternativo assicurato lungo la provinciale 77 il sabato dalle 6 alle 12 55 la galleria è aperta ad una corsia in direzione chiavari con transito per genova deviato sulla provinciale 77 infine dalle 12 55 alle 20 apertura ad una corsia in direzione genova per chiavari si va lungo la provinciale 77 gestione rifiuti d'ambito si è svolta oggi a palazzo bianco sede del municipio di chiavari una riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni comunali di chiavari portofino santa margherita ligure rapallo zuagli sestre elevante moneglia castiglione chiavarese casazza ligure la riunione è stata convocata per discutere la bozza del disegno di legge regionale dello scorso primo febbraio le amministrazioni comunali del golfo del tiguglio si dicono preoccupate per le funzioni attribuite alla costituenda agenzia regionale ligure per i rifiuti che lascierebbe un ruolo meramente propositivo e consultivo ai comuni sindaci e assessori comunali presenti a palazzo bianco si sono detti d'accordo di portare la questione all'attenzione dei consigli edi regionali del tiguglio per avviare un confronto costruttivo successiva la manifestazione del mattino nel pomeriggio i sindacati dei lavoratori ailex hanno incontrato l'amministrazione comunale di chiavari in municipio rappresentata dalla facente funzioni di sindaco silvia stanig dal presidente del consiglio comunale chiavarese antonio segaleba non solo abbiamo manifestato solidarietà e vicinanza dice segaleba ma ci siamo attivati con l'azienda cercando di arrivare a formulare una proposta che sia il più accettabile possibile per i sindacati per il futuro dei lavoratori grazie alle trattative da loro condotte infatti da 22 esuberi iniziali si è arrivati a 14 di cui 4 i lavoratori che si dimetteranno volontariamente a questo punto la nostra proposta concreta da trattare con ailex riguarda il contratto di lavoro part time conteggiato su due persone in modo da passare da 10 a 9 esuberi la nostra amministrazione comunale conclude segaleba è sempre stata dalla parte dei lavoratori novità genova per quanto riguarda i bus elettrici sono in arrivo altri 15 mezzi da 10,8 metri totalmente full electric la lunghezza è pari a quella di quelli in servizio oggi sulla linea 44 presentano 80 posti totali di cui 20 a sedere le novità non sono finite perché sono dotati di pianale ribassato pedana per l'accesso delle persone in carrozzella quindi per un aiuto fondamentale porte centrali e posteriori scorrevoli impianto per la climatizzazione telecamere per la video sorveglianza a bordo e contapasseggeri i veicoli sono completamente elettrici e hanno cinque pacchi batterie agli ioni di litio tutti alloggiati sul tetto e questi veicoli possiedono un unico motore elettrico di marca siemens le esperienze fatte con questi bus che sono già in giro per la città hanno dimostrato la tettale adeguatezza ai percorsi genovesi delle loro caratteristiche sia tecniche che meccaniche quindi un grande passo avanti anche questi bus elettrici saranno contraddistinti come quelli che già stanno girando dalla livrea bianca e rossa ormai tipica di tutti i mezzi green dell'azienda i nuovi bus full electric troveranno a casa nelle rimesse mangini e cornigliano un grande passo avanti per genova e per amt a disposizione dei comuni di carasco casazza ligure rezzo aglio regione liguria metterà a disposizione 538 mila euro per finanziare 30 20 di regionazione urbana le risorse provengono dal fondo strategico a carasco arriveranno oltre 159 mila euro per il completamento dei giardini pubblici di via piani giungono a casazza ligure 200 mila euro per la riqualificazione del centro storico del paese e quasi 180 mila euro a rezzo aglio per la rigenerazione urbana dell'area di cabanne la rigenerazione urbana rappresenta uno degli obiettivi strategici della giunta regionale afferma il consigliere regionale di forza italia claudio muzio grazie a questi interventi i comuni coinvolti potranno riqualificare aree importanti del proprio territorio oggi a palazzo tursi nella salone della rappresentanza un'importante premiazione la premiazione della squadra di calcio a 5 della sd polizia locale di genova qui con me c'è i gordaglio il presidente della sd polizia locale di genova un evento importante siete fieri di questa premiazione immagino delle vostre ragazze assolutamente sì siamo molto orgogliosi di quello che hanno fatto hanno vinto il campionato nazionale di calcio a 5 femminile della polizia locale era la prima competizione che veniva disputata in italia di questo tipo e noi ci siamo portati a casa la coppa del vincitore e quest'anno torniamo giù a torre dell'orso dove si disputeranno nuovamente per la seconda volta questa edizione della competizione nazionale con tutte le intenzioni di vincere nuovamente le ragazze sono state premiate ed è una cosa molto importante perché nello sport diciamo la componente femminile sta dando sempre maggiore risalto sempre maggiore importanza al ruolo delle donne che sono indiscutibilmente una marcia avanti in tutto e neanche nello sport nello sport e anche nel vostro lavoro perché sono tante immagino che ci mettano tantissimo impegno sì assolutamente le ragazze della squadra di calcio a 5 ovviamente partecipando alle competizioni di polizia locale sono tutte quante delle colleghe del corpo di polizia locale di genova loro danno il massimo anche perché oltre al loro lavoro quotidiano si allenano e si allenano duramente almeno una volta la settimana a volte anche di più per portare a casa questi ottimi risultati grazie del vostro lavoro e soprattutto grazie per quello che fate sempre per la nostra città grazie a voi e soprattutto io tengo a dire che lo sport è veramente una componente di unione di tutto quanto il tessuto sociale del nostro territorio in mezzo alle ragazze che oggi insomma saranno premiate quindi una cosa veramente molto importante una una bella cosa ma soprattutto immagino un grande onore oggi assolutamente sì anche perché abbiamo iniziato l'anno scorso come prima squadra nazionale di calcio femminile quindi sì orgoglio quanto è difficile essere donne e soprattutto essere premiate in uno sport che purtroppo ancora adesso è visto forse come uno sport che è un po più maschile ancora ma inizialmente non è stato facile però la volontà porta ovunque quindi basta volere qualche cosa lo si ottiene quanto vi allenate una volta la settimana poi la partita e soprattutto non bisogna dimenticare che voi comunque fate un lavoro molto importante anzi vi ringraziamo per per la nostra città è un lavoro veramente importante e delicato e riuscite comunque anche a trovare il tempo per allenarvi e penso che non sia facile far combaciare il lavoro con l'allenamento no non è facile però quando c'è la passione si riesce a fare qualunque cosa quindi noi ci divertiamo facciamo con grande gioia questa cosa qua ci piace il nostro lavoro e ci piace anche giocare a calcio quindi uniamo le due cose adesso in chiusura voglio fare un breve giro e chiedere a questo punto quali sono i vostri ruoli perché giustamente siamo insomma siamo un po tutti curiosi di sapere io sono il capitano e sono il difensore della squadra io sono il l'attaccante della squadra quindi una grande grinta grinta assolutamente sì attaccante bis io sono il portiere anche questo è un ruolo è un ruolo importante ma ce la facciamo dai e poi il portiere di solito si addossa delle purtroppo delle volte si addossa un po le colpe però insomma anche i meriti si riadossa in maniera importante le ragazze quindi quindi siamo siamo competitivi all'interno della squadra sì 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 per vincere bisogna esserlo se no non si va da nessuna parte è la chiave giusto vado avanti io fascia sinistra corro essenzialmente non è una cosa da poco ci vuole un po' di fiato e io fascia destra anche io corro in teoria ci provo perlomeno beh però visto il risultato viste le prime azioni direi che ci si prova ma ci si riesce anche molto bene direi di sì speriamo di fare bene anche ai campionati a giugno allora io voglio fare un grande in bocca al lupo a queste ragazze grazie per il vostro lavoro grazie per quello che avete fatto e soprattutto grazie per portare questa grande importanza in alto delle donne nello sport grazie a voi grazie per questo premio e noi continueremo il nostro cammino e cercheremo di continuare a fare gli stessi risultati con l'assessore giorgio viale un'importante presente un'importante premiazione oggi qui al salone di rappresentanza di cui sicuramente esserne fieri sì noi siamo veramente molto molto contenti di avere la femminile di calcio della polizia locale che ha vinto gli ultimi campionati nazionali quindi per noi è un vero motivo d'orgoglio e per di più sono sono queste ragazze sono veramente un esempio anche per tutta la città in quanto il calcio femminile a livello di pari opportunità è un qualcosa di importantissimo è un qualcosa che si sta sviluppando proprio in questi anni e noi insomma abbiamo iniziato da poco ma col botto e speriamo anche negli anni prossimi di fare meglio si sta sviluppando però forse non è ancora raggiunto proprio l'apice che deve raggiungere forse è ancora visto un po' come uno sport che è ancora forse più maschile quindi premiazioni come questa eventi di questa importanza dimostrano quanto invece sia uno sport che appartiene tantissimo alle donne beh sì certamente anzi io spero che queste notizie possano spronare tante giovani bambine e ragazze appunto intraprendere una carriera sportiva cominciare anche loro con gli allenamenti e perché no in futuro magari avere una nazionale di calcio femminile che magari fa meglio di quella maschile e non dimentichiamo che queste ragazze appartengono alla nostra polizia locale quindi a persone che tutti i giorni fanno tanto per la nostra città sì parliamo comunque di un impegno che non è soltanto quello lavorativo ma è anche extra lavorativo io voglio ricordare che spesso la polisportiva in generale della polizia locale è anche molto molto attiva nel campo della beneficenza dell'aiuto al prossimo quindi insomma si mescolano veramente tanti fattori molto molto importanti al servizio della città grazie allora grazie per tutto quello che fate e facciamo un in bocca al lupo a queste ragazze per i loro prossimi impegni perché possano andare sempre più in alto sì io spero che con i prossimi allenamenti e tutto il resto insomma possano appunto raggiungere le vette che meritano Siamo qui con Elisa Pilò direttrice del CAM di Lavagna e la sottoscritta Linda Dell music blogger perché c'è un grande evento che dobbiamo annunciare a tutti 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 sia il pubblico di Entella TV e non solo cosa succederà sabato 30 aprile? Allora finalmente un grandissimo evento dopo tutti questi anni ormai perché ne è passato di tempo avremo un grande evento rock un grande festival rock rock is not dead fest cioè il rock non è ancora morto e ne avevamo bisogno perché qui erano più di due anni quasi tre che non si facevano più grandi grandi eventi quindi finalmente musica musica live e saremo a San Colombano Certenoli qui in provincia di Genova un bellissimo spazio palco all'aperto però coperto con l'aiuto dell'ACLI di San Colombano che ci dà questo bellissimo spazio e con l'aiuto anche del patrocino del comune di San Colombano esatto aggiungerei ringraziamo pubblicamente l'assessore Franco Queirolo e tutto il suo team che è stato gentilissimo e ci sta aiutando davvero tanto a mettere su questo grande evento che per la Liguria diciamolo è notevole poi ci stanno già telefonando anche da Milano anche da fuori Liguria perché abbiamo un ospite incredibile abbiamo un grandissimo batterista esatto Mike Terrana Mike Terrana veramente spettacolare ha suonato con Ingui Malmsteen ha suonato con Taria dei Nightwish insomma il Rage quindi un grande veramente nome sia a livello di batteria ma sia a livello proprio di fama internazionale e a San Colombano Certeno insomma siamo riusciti anche a farglielo dire è vero è vero ha fatto il video promozionale anche Mike che insomma con l'accento un po' americano è riuscito a dire San Colombano Alla prima tra l'altro Elisa ringraziamo anche i nostri 20 sponsor abbiamo avuto veramente un supporto incredibile e poi insomma potrete vedere li abbiamo messi tutti in primo piano nella nostra locandina dell'evento sono stati tutti diciamo di grande supporto tanti tanti sponsor ognuno ha dato il suo contributo e noi insomma cercheremo di anche dargli visibilità esatto se lo meritano e ci hanno aiutato davvero in primis loro se no non avremmo potuto mettere su tutto questo e in più a supporto abbiamo cinque grupponi anche rock abbiamo sì sì allora innanzitutto abbiamo un concorso per i giovani chitarristi che parte dalle 5 del pomeriggio e poi avremo una serie poi avremo il meet and greet esatto con Mike alle 18 quindi esatto non mancate ci sarà da divertirsi uno show e poi abbiamo dalle 7 in poi dei gruppi musicali fantastici abbiamo gli Oblivious abbiamo gli Amara e poi abbiamo i Five Ways to Know World poi abbiamo i Desert Crate poi ci sono anche io esatto Negative Zero il mio nuovo progetto duo eh sì un duo molto particolare e poi finalmente Mike Terrana grande finale insomma con rock proprio ai massimi livelli ai massimi livelli sì quindi non perdetevelo la vi aspettiamo sabato 30 aprile dalle ore 17 presso l'area Acli San Colombano Certenoli vi aspettiamo e quindi non perdetevelo l'area Acli San Colombano Certenoli